Nelle prossime ore il personale dell'ARPAC effettuerà i dovuti accertamenti ambientali al fine di determinare eventuali criticità derivanti dall'incendio verificatosi sabato pomeriggio in Via Italia a Capaccio Scalo. Gli esiti saranno comunicati all'ASL competente per eventuali e conseguenziali provvedimenti. Attendiamo i risultati senza generare allarmismi che in questa fase potrebbero risultare solamente controproducenti, è il commento del consigliere delegato al monitoraggio ambientale Giovanni Piano. Colgo l'occasione, aggiunge il consigliere, anche per esprimere la massima solidarietà a nome mio e di tutta l'amministrazione alle famiglie colpite dall'incendio. Il rogo, che è interessato un negozio di ingrosso tessile, ha reso necessaria anche l'evacuazione delle abitazioni circostanti.